shop simulator pro web andiamo a iniziare il gioco lo trovate su steam gratis free to play allora questo è il nostro supermercato tetrapon hai lasciato il mio lavoro quotidiano per aprire il mio negozio i giochi dei carti questo è tutto il ok allora mettiamo il nome del negozio beh giusto giusto conferma marco giù i carti tranne in card game apri il telefono e fai scorti di pacchetti di carte mmm scatola di carte base pacchetto di carte qui abbiamo gli accessori figurina abbiamo le carte è giusto 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 Allora che cazzo trading card game cronologia dei pezzi che vedi dici chiuso? un 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 ordine eccolo qua sette racchetti un pochetti Sì. fanno uscire allora prezzo 2,67 la mia maria è un tiro primo scafato Perfetto e questo l'abbiamo di riserva, apriamo, venite e completate con successo 5 check-out. Clienti, clienti. Perfetto. Perfetto. 9.32. Perfetto. 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 Ah, qui stiamo. No, non è un'altra scelta, non è un po' ciao e 17 28 19 19 19 19 19 20 20 20 21 22 22 22 23 24 25 25 25 25 25 26 25 26 26 27 27 28 28 30 30 31 31 32 32 33 33 33 34 34 35 33 33 34 34 34 35 37 Preciso. Siamo a 700 dollari. Ok, sono inserato. 33 e 25. 25. Uno solo. Siamo a 300 dollari. Siamo a 300 dollari. Siamo a 400 dollari. Siamo a 400 dollari. Siamo a 400 dollari. Siamo a 300 dollari. Siamo a 400 dollari. prendi i pacchetti di carte e lo scaffa e apri per tre e nuove carte figo eeeh non pia prendo lasminare gusciare luffo eeeh sappoling arriva eh eeeh 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 ma luffo ce l'ho trovata eeeh 1.99 1 3.30 eeeh quanti pacchetti eeeh qui su un tavolo al gioco mettono al negozio eeeh 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 lo mettiamo qua arrivo eh eeeh 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 2.33 2.33 eeeh eeeh stanno già giocando eeeh 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 3.33 eeeh 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 devo chiudere MIPO eeeh eeeh forse alle 9 qua c'è il magazzino eeeh 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 noi ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti belli eeeh 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 eeeh